Ho chiamato un cliente per parlare con urgenza, ripeto urgenza, ripeto urgenza, in una maniera originale, però significa che loro continuano a rompere. Ehi Gioia, ascoltami un attimo, siccome non è la prima volta voi, ci sono state altre persone. Ma voi per quale motivo l'avete fatto? Per quale motivo l'avete fatto? Per i soldi iniziali? Allora, tu l'hai fatto solo per le 1000 euro o per l'ultimo i soldi quelli grossi? Io penso che voi l'avete fatto per i soldi finali, giusto, quelli grossi? Sì. Ecco. Io stesso, perché io non vedo niente, io non vedo niente cosa sei, per i mecenari pensiamo niente, per i visiti veniamo a prendere niente. E perché non parli con l'avvocato che è venuto da te l'avvocato? A dirti di che cos'è bisogno? Ma picco giuricite! Non so, cosa non ti faccio sentire? Che stai? Non m'acciaio! Non m'acciaio! Non m'acciaio! s'è giuricite! Ma proprio può essere, non ha proprio soccorso, a chi mi ha messo la carraggia allora! Mi schiena! Mi schieno io, la figlia senza pesce! Infamone! Tutto che l'ho impressionato! Eh! No! Non ti capisci a te! Mi pareva una dita quando ci stiano guardate!